Questa settimana nella nostra trasmissione parleremo del FLAG. Il FLAG che è una evoluzione di quello che un tempo era il gruppo di azione costiera, raggruppa dieci comuni per quanto riguarda quello che è denominato il sole l'azzurro tra Selinunte, Sciacca e Bigata che si affacciano sul mar Mediterraneo. Dieci comuni che sono uniti in un progetto di promozione, di valorizzazione soprattutto delle risorse costiere, anche quelle della pesca e con un'ottica rivolta verso una valorizzazione sul piano paesaggistico anche di attrazione turistica ma anche possiamo dire di investimenti per migliorare le strutture a disposizione delle risorse marinare che non tutti i comuni hanno una tradizione di tipo peschereccio ma tutti i comuni hanno sicuramente un'importanza rispetto alla valorizzazione della loro costa. Questa settimana parleremo di questo argomento e cercheremo di capire ancora meglio quale sia l'obiettivo, la mission per così dire del FLAG. FLAG non c'è soltanto quello della nostra zona, ce ne sono altri in tutta la Sicilia che sfruttano anche la possibilità di attingere a significativi finanziamenti. Cercheremo di capire quali possono essere le prospettive anche rispetto ai benefici per tutti i comuni che ne fanno parte. Voglio salutare e ringraziare gli ospiti che hanno accolto il nostro invito, l'ingegnere Giovanni Borsellino che è il direttore del FLAG, il sole all'azzurro tra Selenunte, Sciacca e Vigata, non vi sfuggirà il riferimento anche diciamo così della denominazione del FLAG perché Selenunte, la tradizione così importante archeologica collegata al comune di Castelvetrano, Sciacca e Vigata che è il nome che il grande scrittore empedoclino Andrea Camilleri ha voluto dare nella finzione del racconto che ha come protagonista il commissario Montalbano alla sua cittadina natale. Ecco questo è il segmento che raggruppa tutti i comuni che si affacciano, non tutti, insomma gran parte dei comuni che si affacciano su questo pezzo di costa. Voglio ringraziare per aver accolto il nostro invito anche il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano che è qui presente anche lui per parlare di investimenti importanti che peraltro sono stati fatti sulla frazione di Marinella di Selenunte nell'ambito delle disponibilità delle risorse del FLAG e poi voglio ringraziare il sindaco di Sciacca Francesca Valenti con cui insomma cercheremo anche con lei di fare il punto sulle iniziative promosse dal FLAG. Voglio iniziare però subito chiedendo all'ingegnere Borsellino una breve descrizione di che cosa sia il FLAG al di là delle cose che ho potuto anticipare io nella breve premessa. Prego ingegnere. Sì, il FLAG di Storio Lazzurro appunto è una società mista, consorti di Repubblico Privata, già attiva dalle 2013 perché diciamo il primo finanziamento è stato avuto nel FEP 2007-2013, adesso diciamo invece abbiamo ottenuto un secondo finanziamento all'interno del Piofe, Ampe 2014-2020 che è il Fondo Europeo degli Affari Marittivi e della Pesca. Il FLAG è stato costituito sotto forma di una società consortile mista pubblico privata dove praticamente all'interno del quale ci sono 10 comuni soci che sono i comuni che vanno da Campobello di Mazzara fino a Portembedocle e in continuità, cioè sono tutti i comuni che vanno da Campobello di Mazzara a Portembedocle. La società è sorta con l'obiettivo di valorizzare l'area costiera dal punto di vista ambientale e poi per valorizzare il pescato locale, che il pescato locale è una delle attività più floride nel territorio. Quindi il pescato locale, possiamo farci capire ancora meglio dai nostri telespettatori, per esempio Menfi ha una tradizione di piccola pesca, Selenunte ha una tradizione di piccola pesca, Sciacca ha un altro tipo di tradizione. Sì, devo dire che all'interno del nostro intervento, del nostro piano di azione locale, sono previsti sia interventi di carattere infrastrutturale, sia interventi di immateriali. Dal punto di vista infrastrutturale abbiamo già avviato diverse iniziative, per esempio a Castelvetrano, quindi a Marinella di Selenunte, abbiamo realizzato il mercato del pescatore e abbiamo riqualificato tutta la piazza decente del mercato. Questa è un'iniziativa di cui una parte di intervento è già stata completata e la seconda parte della riqualificazione della piazza è in base di realizzazione. Ecco Ingegnere, se dico che è questa la strada per i comuni per cercare di condividere progetti investimenti al di là dell'aspetto promozionale che è fondamentale, però la possibilità attraverso questo consorzio di accedere a determinate misure è questa la strada che bisognerebbe continuare a perseguire. Sì, è una strada assolutamente ormai indispensabile perché ormai da soli non si va avanti e quindi la cooperazione è una forma indispensabile di crescita territoriale, tant'è che poi magari successivamente possiamo approfondire anche con i sindaci, abbiamo già avviato anche un protocollo di intesa per il proseguo della nostra attività. Ecco, Sindaco Alfano, qual è la sua opinione sul fatto che un comune da solo, naturalmente per tante ragioni, specialmente quelli che stiamo vivendo oggi, quelli da cui siamo reduci, confidando che queste opportunità così tanto decantate del PNRR possano essere disponibili al più presto possibile. Qual è l'importanza per i comuni di condividere un progetto di consorzio in questo caso? Ma credo che sia assolutamente indispensabile perché oggi se non si parla di territorialità, quindi di territorio vasto non si va da nessuna parte. Nessun comune è in grado di poter affrontare tematiche e progetti senza consorziarsi con gli altri comuni. Nell'ambito del FLAG noi abbiamo avuto una buona esperienza, sarà a merito dell'ingegnere Borsellino che fa da collante tra tutti i sindaci, sarà a merito delle nostre comunità, ma abbiamo trovato tanti interessi in comune e quello che stiamo realizzando lo stiamo realizzando in armonia, che non è roba da poco, tant'è che stiamo iniziando un altro percorso, anche più ambizioso, far diventare il FLAG l'autorità intermedia per poter aderire e promuovere iniziative con il PNRR. Però di questo credo che anche la collega potrà in qualche modo. Quindi quello è la prospettiva, da soli non possiamo andare da nessuna parte, insieme possiamo realizzare delle cose davvero grandiose. Quello che è stato sinora concretamente realizzato a Slinunte, che è la piazzetta linea, quindi la riqualificazione rispetto a quello che era il mercato del pesce, che a Castelvetrano è unico, ha una sua unicità, perché il pescato viene venduto ogni mattina all'incanto dagli stessi pescatori, che è un richiamo, crea piccola economia, ma è un richiamo anche turistico, perché la mattina è notevole il flusso degli astanti per poter competere in questa gara per l'acquisto del pesce ancora ben fresco, ancora vivo, come si suol dire. Quindi noi siamo contenti di esserci, contenti di partecipare e vogliamo insieme a tutti i comuni fare ancora un passo in avanti anche più ambizioso. Ecco, lei riconosce anche l'esistenza di una omogeneità territoriale, sicuramente per il mare, però anche culturale. Riconosco che ci sono degli interessi in comune, le Trapani Sud rispetto diciamo alla parte costiera dell'Agrigentino ha molto più punti di interesse rispetto a Trapati Nord, quindi questo è nelle cose, storicamente è così. L'antica Selinunte con Sciacca aveva molto più legami rispetto a Trapani Nord, ci sono delle cose che geograficamente e anche storicamente ci accomunano rispetto ad altri paesi, sia nell'entroterra che in Trapani Nord, nel nostro caso della provincia. Anzi, noi speriamo di poter avere anche in futuro dei collegamenti diretti tra le nostre comunità nell'ambito costiero. Questo diventerebbe un moltiplicatore dei flussi turistici e quindi qualcosa che farebbe muovere all'interno del nostro territorio i nostri turisti in maniera diciamo agevole, sapendo che in ogni posto trovano delle peculiarità e delle ricchezze che altrove non trovano. Sindaco Valenti, spesso diciamo, parlando di Sciacca, diciamo che siamo al centro di questo territorio dal punto di vista storico ellenistico fondamentale tra Eraclea, Minua e Selinunte. Questo strumento ci permette di rendere concreta questa centralità, diciamo anche sul piano giuridico, se mi posso permettere di dire questo, al di là di quello geografico. Sì, perché è vero, condivido, perché noi abbiamo un ruolo centrale che è indispensabile che Sciacca abbia e questa realtà è una realtà che valorizza tutte, io credo, tutte le comunità. Ma la cosa che diceva il mio collega e su cui vorrei io tornare è che non c'è una concorrenza. Ecco, all'interno del flag non c'è una concorrenza, ma c'è una comunità di intenti perché le varie comunità, le varie realtà non sono in concorrenza tra di loro ed è questa secondo me la forza. Noi insieme creiamo una realtà assolutamente concorrenziale sotto tutti i punti di vista, ma insieme, ciascuno con le proprie specificità. e volere puntare sul flag come struttura intermedia per dei progetti molto ambiziosi sul PNRR dimostra proprio questo, che c'è grande sinergia e grande comunione di intenti. In questo Sciacca si trova assolutamente a suo agio, vorrei quasi dire, nel senso che abbiamo trovato una realtà che ci sostiene, ci supporta, grazie anche alla competenza, certamente, che c'è, qua c'è l'ingegnere Borsellino, grande competenza all'interno del flag, e tutto questo diventa sicuramente prezioso per ciascuna delle città. Ecco, il Comune di Sciacca ha utilizzato il flag per determinati obiettivi? Certo, ne abbiamo uno in itinere, in realtà adesso dovrebbero, credo, iniziare i lavori a breve, un progetto che riguarda la riqualificazione dell'area portuale, e poi ci sono le strutture che comunque insistono sempre nell'area portuale, quindi il flag è stato di fondamentale importanza per ottenere dei finanziamenti e per poterli gestire anche nella maniera più virtuosa possibile e adesso provare ad averne di veramente significativi, perché l'idea di un grande progetto non è più l'idea del finanziamento di centinaia di migliaia di euro, ma diventa l'idea di un progetto molto importante. Ecco, ma possiamo dire che questo strumento va oltre anche le possibilità che venivano riconosciute per esempio all'Unione dei Comuni, no? Ecco, qui siamo di fronte ad una situazione che va al di là anche offrendo opportunità superiori a livello quantitativo. Sì, certo, sicuramente, ma stiamo ragionando... Perché l'Unione dei Comuni era per condividere alcuni servizi specifici. Esattamente, ma in ogni caso, per fortuna dico, si sta ragionando su questo, perché Sciacca è interessata dal flag per questa convenzione e quindi per poter avere questi progetti che ovviamente hanno come unico comune denominatore la costa, il mare, questo che ci lega dentro il flag, ma Sciacca è anche altra, dentro altra convenzione, verrà sottoscritta la prossima settimana proprio presso il nostro Comune di Sciacca, che riunisce invece altri comuni anche dell'entroterra, perché noi siamo in una posizione strategica. In realtà Sciacca è un punto di riferimento anche di tutti i comuni dell'entroterra che vedono Sciacca come riferimento. E anche lì creeremo una struttura tra comuni, siamo tanti, 20 comuni circa, forse anche di più, per poter fare un progetto importante sempre sul PNRR. Cioè la logica è quella di lavoriamo insieme, insieme possiamo farcela, da soli certamente no, perché nessuno di noi ha le risorse adeguate dentro i propri comuni, anche se arriva qualche accenno da noi, ha preso servizio un'unità di personale dedicata al PNRR, ma è ben poca cosa, diciamocelo, e abbiamo bisogno di queste strutture intermedie che ci consentono anche di poter contare su professionalità, su un'organizzazione, su una gestione che non è quella dell'ente locale in senso stretto. Assolutamente. Torniamo in genere, facendo un po', anche riconoscendo la presenza degli altri comuni, facciamo un po' l'elenco. Campobello di Mazzara, Castelvetrano, Menfi, Sciacca, Ribera, Cattolica e Reclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte e Porto Emperio. Questi sono i dieci comuni che fanno parte del flag. Voglio dire che siamo reduci da una serie di seminari, compatibilmente con le misure che ci sono state imposte, naturalmente, di contrasto al Covid, però, insomma, nei mesi un po' più agevoli dal punto di vista del clima, si è riusciti a fare degli incontri ed è venuto fuori che ogni territorio ha la sua specificità, Realmonte con la Scala dei Turchi, le cave di Cusa a Campobello di Mazzara, naturalmente i templi di Serenunte, Portopalo di Menfi, insomma, è chiaro che tutti possono risalire benissimo alle specificità di ciascun comune. L'importanza di essere, di fare sistema, di essere insieme in questi comuni, hanno la consapevolezza di cui chiedevo al Sindaco Alfano, lei cosa ne pensa? C'è? No, io devo dire che, diciamo, nel flag non c'è stata mai alcun attrito tra i comuni, anche se camminati sempre dalla stessa direzione, anche in fase, diciamo, di predisposizione del piano di azione c'è stato un assoluto accordo, diciamo, tante che sono stati previsti interventi su tutti i territori, sulla base delle peculiarità di ogni territorio, per esempio un altro intervento che abbiamo già completato è la valorizzazione del Belvedere della Scala dei Turchi a Realmonte, che è un'altra delle peculiarità del territorio conosciuta a livello mondiale, abbiamo rifatto l'impianto di illuminazione e abbiamo valorizzato il Belvedere che c'è sul fronte della Scala dei Turchi. Come diceva il Sindaco, a Sciacca già abbiamo un progetto in itinere che purtroppo, diciamo, per problematiche amministrative, diciamo, di autorizzazioni ancora non è stato avviato, ma speriamo che nelle prossime settimane l'ultima autorizzazione, diciamo, sarà ottenuta e ci auguriamo in maniera tale da poter avviare questo intervento che praticamente sarebbe la collocazione degli ancoraggi per ormeggio per i pescatori e la realizzazione di alcuni box, diciamo, da utilizzare come magazzino e poi la videosorveglianza che è un'altra, diciamo, dell'intervento molto importante nell'area portuale. In questo periodo ci sono state delle problematiche, diciamo, di rifiuti e con questa maniera cerchiamo in qualche maniera di limitare queste problematiche. Ecco, la videosorveglianza, dicevo, è stato un argomento al centro del dibattito anche per la scelta che l'amministrazione ha fatto di coinvolgere il flag in questo investimento assolutamente necessario. Invece vorrei capire, Sindaco Valenti, il discorso del mercato dell'isola ecologica che è stato realizzato dal flag. Sì, allora noi abbiamo il mercato del pescatore, la cui gestione è stata già affilata dal comune alle cooperative che lavorano su Sciacca, tutte, quindi gestiranno insieme. Devo dire che mi avevo chiesto già al dirigente, il comune ha fatto tutto, quindi si aspetta la consegna, che si accetti in consegna questo bene, quindi partirà il mercato del pescatore che è una realtà importante proprio perché sicuramente va un po' a disciplinare, ecco, questo ambito. Abbiamo l'isola ecologica, anche su quello è stato fatto l'avviso e l'affidamento da parte del comune, non è ancora partito perché in materia di rifiuti ci sono varie autorizzazioni e varie verifiche che non competono al comune, che riguardano anche altro, quindi adesso si stanno capendo, però già l'operatore è stato individuato. Avevamo già affidato la tettoia di riparo con un protocollo d'intesa sempre alle cooperative e poi noi abbiamo il progetto del mercato ittico sull'area portuale, pure su questo l'affidamento è stato portato avanti, anche lì diversi problemi perché ricordiamoci che siamo sempre in area demaniale, quindi c'è una compartecipazione di responsabilità e soprattutto di titolarità che a volte può rendere anche un po' più farraginoso il meccanismo dei procedimenti, però sono andati avanti. La prospettiva del piano del PUDM potrebbe interessare anche l'area portuale o parliamo solo di spiagge in quel caso? No, quello si parla delle spiagge, quello è stato affidato da tempo, aspettiamo che venga presentato perché è stato affidato all'esterno del comune con un incarico, adesso si attende che venga proprio depositato. Per il progetto delle telecamere che tempi possiamo immaginare l'ingegnere Borsellino? Io penso molto brevi perché tra l'altro abbiamo anche dei termini di scadenza da rispettare con il soggetto attuatore la regione siciliana e quindi io penso che nelle prossime settimane sarà sbloccato il tutto e quindi io penso che sicuramente entro giugno saranno installate le telecamere. Ho una curiosità, lei si confronta evidentemente con i suoi omologhi degli altri flag, quanti ce ne sono in Sicilia? In Sicilia sono sette flag. E come procedono? Qual è la situazione? No, la situazione è che ci sono chiaramente dei flag che sono in fase avanzata e dei flag che sono un po' indietro, però questo è dovuto anche a un problema sempre burocratico perché ci sono stati dei ricorsi, quindi alcuni flag hanno iniziato prima e altri dopo, quindi i ritardi sono dovuti essenzialmente a rallentamenti amministrativi e non per mancanza di efficienza da parte dei colleghi. E comunque è una prospettiva verso cui si continua ad andare? Sì, già è prevista che la nuova programmazione, entro fine 2022 ci sarà la nuova programmazione e quindi rientreremo nel Pio FEMPA che ora si chiama FEMPA perché è stato esteso anche alla parte dell'entroterra e quindi i laghi e acquacultura. Nel FEMPA 2021-2027 sicuramente ci sarà un ulteriore sviluppo del flag. Lei ha parlato di acquacultura, è un tema perché la riconversione delle attività produttive del settore marinaro è uno degli argomenti che sono da sempre al centro dell'attenzione, tornerò tra poco da lei. Vorrei capire l'opinione del sindaco Alfano sul piano turistico, com'è stata la stagione da cui siamo reduci per il suo comune, per la costa di Selinunte? È stata una stagione anche quella da dimenticare, tant'è che siamo stati inseriti in un contesto che ci permetterà di poter attingere fino a 200 mila Euro per un progetto che possa incrementare il flusso turistico. Proprio giorno 2 prossimo c'è la consulta del turismo che abbiamo allargato anche ad altri soggetti che possono dare una mano per la crescita turistica perché insieme vogliamo presentare questa nuova progettualità mettendo a centro il parco archeologico, abbiamo un attrattore fortissimo, anche il direttore del parco sarà presente, quindi speriamo che da questa progettualità possa venire fuori veramente un incremento turistico perché ricordo che abbiamo 4 mila posti letto nell'ambito brighiero, quindi quella è l'industria su cui puntare, quella è l'industria che può dare lavoro e in qualche modo può dare una grossa mano d'aiuto alla nostra agricoltura, perché il turista che arriva cerca i prodotti identitari del nostro territorio, Castelvetrano ha il pane nero e l'olio, così come le altre cittadine del territorio hanno altre peculiarità, altri prodotti identitari, è questo che noi dobbiamo offrire, quindi io spero che da questa progettualità possiamo davvero far venire fuori un flusso turistico adeguato, visto che noi abbiamo un'offerta alberghiera ed extraalberghiera in grado di poter ospitare migliaia e migliaia di persone. Castelvetrano ha anche l'imposta di soggiorno? Castelvetrano ha l'imposta di soggiorno che quest'anno per la prima volta dopo qualche anno investiremo nell'ambito della promozione turistica, perché non è stato fatto nei primi due anni del mio mandato? Perché noi siamo un comune in dissesto finanziario e in dissesto finanziario la legge impone di fare soltanto delle spese indispensabili e non venivano ritenute indispensabili e le spese per la promozione del territorio, come dire dobbiamo morire per forza, allora a questo punto ho fatto un quesito alla Corte dei Conti in maniera precisa, specificando che quell'attività, quell'investimento sarebbe stato un ritorno per ritornare ad essere più forti di prima e la Corte dei Conti mi ha dato ragione, mi ha detto puoi spenderli per la promozione del territorio, quindi nelle varie specificità che avevo indicato, anche per eventi culturali che possono essere attrattivi, attrattori per un territorio, quindi quest'anno investiremo quella tassa di soggiorno che è grossomodo intorno a 300 mila Euro, in più questi 200 mila Euro da poter investire, è una bella somma che se indirizzata nel migliore dei modi e attorno a quel tavolo abbiamo chiamato anche dei professionisti di promozione del territorio, potremmo avere davvero dei buoni risultati, poi se il mondo scientifico ci dice che dalla primavera in poi anche la pandemia dovrebbe dare più spazio, più respiro, penso che quest'estate, l'estate prossima potrebbe essere l'estate veramente della ripresa, ma di quella vera. Lei ci riconduce nel suo ragionamento sulla difficoltà economica del suo comune ai temi con cui abbiamo aperto questa trasmissione, ovvero sia della necessità che i comuni condividono dei percorsi, come quello che riguarda il flag. Sindaco, una risposta come quella che la Corte dei Conti ha dato al sindaco di Cassavetrano può essere utile anche per altri a livello di precedente? Certo, può essere utile per altri, non per sciacca, sciacca in questo momento, anzi dagli ultimi conti siamo fuori dal rischio predisesto o altro, abbiamo migliorato tutti gli indicatori, abbiamo una situazione di bilancio in questo momento tranquilla, quindi è utile perché è assolutamente condivisibile, anche perché non si capisce perché mai non si dovrebbe puntare alla promozione del territorio, utilizzando l'imposta di soggiorno, però noi sappiamo bene che è così. E con l'imposta di soggiorno il comune di Sciacca come è andata? L'imposta di soggiorno ovviamente più importante in termini proprio finanziari, noi siamo intorno al milione di euro, 900 mila euro di imposta di soggiorno, quindi sicuramente è stata utilizzata veramente, tranne alcune poste che riguardano attività di scerbatura, attività di supporto ad alcuni servizi che riguardano la città, per il resto sulla promozione senz'altro, tra l'altro su alcune iniziative abbiamo proprio collaborato con il FLAG. Il FLAG ha fatto tante iniziative insieme al comune nella scorsa estate, ha partecipato alle vie dei tesori e anche lì ci sono state delle esperienze che hanno riguardato l'ambiente peschereccio, perché si è proposto anche questo, la visita o comunque il giro con il peschereccio, piuttosto che la visita dell'area portuale o dell'industria ittico-conserviera, quindi si è dato un'offerta diversa e molte cose sono state fatte con la collaborazione del FLAG o quantomeno anche con la collaborazione scientifica del FLAG, cioè cosa poteva essere migliore da proporre per la nostra realtà portuale, per la nostra realtà peschereccia. Glielo devo chiedere, così ho paura di dimenticarlo. Lei ci conferma che il bilancio di previsione il comune di Sciacca è in grado di approvarlo in tempi brevi, bilancio di previsione 2022 2020 e questo dimostra che siamo... Ecco, ha cominciato già a rispondere, ci cresce perché questa volta è possibile, magari l'anno scorso e anche negli anni precedenti non è stato possibile? È possibile perché la situazione è decisamente migliorata, perché abbiamo avuto delle difficoltà a chiudere, a far quadrare il bilancio, avevamo degli indicatori soprattutto che ci hanno appesantito tantissimo, tra questi l'anticipazione di cassa, che è una cosa cronica ormai perché da decenni avevamo sempre una forte esposizione sull'anticipazione di cassa che è considerato un indicatore di criticità ovviamente per l'ente. Quest'anno, dopo 12 anni, al 31 dicembre il comune ha chiuso senza anticipazione di liquidità. Consideriamo che si parlava di milioni di euro di anticipazione di liquidità, quindi da 6 milioni, 7 milioni, cioè molto avanti e siamo... Questo è un risultato incredibile quasi. Questo unito al fatto che abbiamo decisamente migliorato i tempi sui pagamenti, quindi le liquidazioni vengono fatte nei tempi previsti dalla norma dei 30 giorni adesso e quindi anche quello era un indicatore importante. Tutta questa attività di risanamento e di messa in ordine sta producendo gli effetti che noi speravamo e perciò siamo in condizioni di fare il bilancio nei tempi che sono previsti, anzi forse anticipando gli stessi tempi previsti dal legislatore. Allora, torniamo a parlare di flag. Ingegnere Borsellino, a proposito di quello che diceva il sindaco Valente, abbiamo avuto la collaborazione, quindi evidentemente... No, nonostante il Covid, devo dire, diciamo che come flag abbiamo fatto diverse iniziative sul territorio di promozione. Ne abbiamo fatto anche una con una diretta televisina al Parco di Serinunte, devo dire, che è riuscita benissimo. Anzi, diciamo, c'è stato un eccesso a causa Covid di persone che non hanno potuto partecipare. Parliamo dell'esibizione dell'orchestra, della Women Orchestra. Sì, dell'orchestra, è stata fatta in diretta a Trevisi. E poi sono state fatte altre iniziative molte a Sciacca, tra l'altro per valorizzare le vie dei tesori abbiamo fatto anche un video che abbiamo trasmesso a livello regionale e questo ha comportato un incremento notevole di presenze a Sciacca. Siamo stati alla terza città, diciamo, della Sicilia come numero di presenze delle vie dei tesori. Un'attività di cui andiamo fieri come flag è quella di l'attività di sensibilizzazione ambientale e alimentare rivolta ai bambini delle scuole elementari e medie, che è stata avviata ora nel mese di gennaio, purtroppo in DAD, perché chiaramente in presenza ci sono delle problematiche, in presenza sicuramente sarebbe riuscita di avere. Più efficace però già abbiamo dei riscontri positivi da parte, diciamo, sia delle insegnanti che degli allievi delle scuole, dei ragazzi. È un'attività che abbiamo ripetuto, che avevamo già fatto nella prima programmazione e l'abbiamo ripetuta perché ha un effetto moltiplicatore veramente in termini, diciamo, di risultati. Ecco, mi faccia dire anche che il flag si è appoggiato, ha chiesto collaborazione e l'ha ottenuta alle Proloco. Sì, questa è stata una scelta, diciamo, del nostro flag di cui, diciamo, ne andiamo fieri. Perché si è pensato, se dobbiamo valorizzare il territorio, affidiamoci a chi quel territorio non solo lo conosce, ma lo sa anche promuovere. Anche questo ha dato un effetto moltiplicatore, cioè i costi si sono ridotti naturalmente e i risultati si sono amplificati. Quindi devo dire che questo è un vanto da parte nostra e anche dei sindaci che è stata una scelta, secondo me, indovinata in questo senso. Quindi in ogni Comune la Proloco di quel Comune ha contribuito, ha collaborato... Ha organizzato un'investazione del flag nel suo territorio. Quindi abbiamo coinvolto tutte le comunità locali, diciamo, all'interno del nostro processo. Ecco, voglio ricordare a titolo di esempio uno dei seminari che si sono svolti recentemente a Realmond, alla Scala dei Turchi. Ovviamente parliamo prima di quello che è successo, dell'incredibile scempio operato alla Scala dei Turchi. Adesso sono stati anche individuati gli autori, quindi diciamo che abbiamo fatto subito un obiettivo raggiunto rispetto al fatto che queste persone, almeno adesso sappiamo chi sono. Poi è chiaro che ci sono dei procedimenti giudiziari, è chiaro che ognuno deve svolgere la sua strada. Però recentemente c'è stato un incontro che ha riguardato proprio la valorizzazione della Scala dei Turchi e la presenza dell'autorità marittima, a parte oltre che di associazioni ambientaliste, ovviamente delle autorità locali. È soltanto un riferimento per dire che lo studio del territorio è sempre al centro dell'attenzione delle attività del flag. Sì, ne abbiamo fatti dieci, come tu ricordavi. Anche a Portebetro c'è stato un intervento da parte del viceministro Cancellieri sulla croceristica e c'era il comandante dell'autorità portuale, una serie di iniziative. Anche a Castelvetrano magari ne potrà parlare meglio anche il sindaco, abbiamo organizzato un seminario molto interessante. A Portebetro ricordiamo anche la cucina del commissario Montalbano, le ricette che il commissario Montalbano che Camillera ha inserito. Sì, perché abbiamo fatto, tra le tante attività, abbiamo fatto dieci puntate televisive, una per ogni comune del flag, per la valorizzazione, l'abbiamo promossa a livello in una televisione regionale, oltre chiaramente sulle televisioni locali. Possiamo dire, in collaborazione con TRM, Publimed. Sì, sì, con TRM, Publimed. Possiamo dirlo, mi sembra. E poi, diciamo, hanno partecipato tra Radio Sciacca, Montecronio stesso e quindi c'è stato proprio un interesse, diciamo, del territorio, proprio l'obiettivo nostro è quello di valorizzare il territorio del pescato, quindi le puntate televisive hanno avuto, diciamo, anche esse un riscontro notevole, positivo, a livello sia regionale, mi auguro, diciamo, più che regionale. Le puntate televisive che sono andate ovviamente in onda in televisione, ma sono anche disponibili sul canale YouTube, sul sito del flag. No, una volta che noi abbiamo dato il video, noi possiamo utilizzare, anche i singoli comuni lo possono utilizzare in fiere, manifestazioni, perché, diciamo, è il nostro il copyright e quindi possono utilizzarlo dove meglio credono, per valorizzare ognuno il proprio territorio. Sindaco Alfano, quali sono state le iniziative che è stata organizzata? Beh, credo che sia stata una mossa davvero vigente, quello di avere coinvolto le Proloquo, perché conoscono bene il territorio e quindi sanno come promuoverlo nel migliore dei modi. Abbiamo fatto un seminario sulle peculiarità, sui prodotti identitari ed è stato molto molto partecipato. Poi naturalmente proprio a causa Covid abbiamo dovuto limitare soltanto i primi che si prenotavano. Poi è stato molto interessante, molto partecipato e quindi credo che coinvolgere le Proloquo possa essere qualcosa da dover fare anche in futuro, allorquanto si vuole promuovere il territorio stesso. Scusate, ma se no voglio aggiungere per i seminari, diciamo che all'interno dei seminari, a parte la parte culturale, la cosa importante è che noi tenevamo a valorizzare il prodotto ittico, quindi in parallelo al seminario poi c'era la degustazione del prodotto ittico, quindi non era un seminario a sé stante che parlava solo del territorio, ma era anche l'obiettivo di valorizzare il prodotto ittico. In quella occasione peraltro c'era uno chef molto bravo che ha messo su delle pietanze che tenevano conto della nostra tradizione con qualche novità che era proprio sua, dello chef stesso. Quindi creando curiosità e anche quella piacevolezza, convivialità che ci vuole in questi momenti in cui si vuole promuovere anche qualcosa che fa parte del territorio. Questo ci dice anche che oggi bisogna sfruttare queste tendenze turistiche, nella fattispecie enoturistiche, enogastronomiche, perché c'è un mercato che sta crescendo tantissimo di persone che vanno, scelgono i luoghi sulla base anche delle caratteristiche dei prodotti tipici. Ecco in questo senso anche questo il flag riesce ad orientare oggi, quindi c'è una varietà di interventi che è in grado bisogna dare merito perché poi alla fine comincia ad essere stimolante perché poi i comuni possono, come dire, aggiungerci del proprio e quindi promuovere quelle tipicità che le sono proprie. Una cosa che noi per esempio faremo prossimamente è la valorizzazione dei nostri oliveti. Abbiamo aderito a Città dell'Olio dopo qualche anno che ne avevamo già usciti e ci troveremo a dover sfruttare, a sfruttare anche questa possibilità di attrattamento attiva turistica per quel turismo sensoriale che potrà venire qui a raccogliere olive, vederle molite e gustare il nuovo olio con il pane nero nel nostro caso e quindi vedere tutta la filiera pronta nel giro della stessa giornata. Io mi rendo conto che la sua attività a livello di prospettive è molto legata alla valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico. Credo proprio che se tutti facciamo così... penso intanto perché credo che sia la parte che ci può dare davvero uno sviluppo economico duraturo. Se tutti lo facciamo singolarmente e ancora di più insieme, credo che davvero noi creeremo ricchezza per il futuro. Non abbiamo altro, abbiamo delle cose di cui noi non ci rendevamo conto prima e che invece chi poi li conosce, li trova davvero delle cose straordinarie. L'olio, il pane nero, così come il pescato che è quello che si sta cercando di valorizzare. Ecco, quando poc'anzi la collega parlava dell'unione dei paesi dell'entroterra, io credo che un ruolo importante che ha Sciacca è quello di poterle mettere insieme, se si vuole, il flag e questa unione dei comuni dell'entroterra, perché non fa altro che arricchire una territorialità. Non impoverisce, anzi arricchisce perché lì nel territorio, nell'entroterra ci sono altre ricchezze che sono diverse, non sono competitive e anzi danno una vasta offerta che è quella che noi dobbiamo cercare, perché il nostro turista deve potersi spostare nel nostro territorio. Non possiamo e non vogliamo trattenerlo laddove ha prenotato, deve potersi muovere e trovare ricchezza dovunque, trovare quella piacevolezza che poi raccontata farà in modo di portarci nuovi turisti ancora. Ecco, tra le competenze anche del flag, parte i momenti di degustazione, anche quelli di valorizzazione del folklore, con la musica di gruppi che interpretano le vecchie canzoni delle nostre zone, naturalmente con riferimenti anche alla storia. Sì, certo, voglio aggiungere che noi tra le altre cose siamo capofila del progetto di cooperazione tra i sette flag siciliani, ci hanno confermato capofila, eravamo capofila nella vecchia programmazione, siamo capofila anche in questa, all'interno di questo progetto di cooperazione che si chiama proprio Mago Sicile è previsto proprio un'azione di promozione dove noi svilupperemo sui nostri territori dei sette flag una campagna di comunicazione comune per promuovere degli eventi che svilupperemo sui territori per la valorizzazione del prodotto ittico locale e in contemporanea la valorizzazione delle nostre emergenze artistiche, quindi artisti, compagnie teatrali, quindi che individueremo noi e segnaleremo alla ditta giudicataria per sviluppare degli eventi sui territori e contestualmente valorizzare il prodotto ittico. Lei sarà pudico, ma se hanno scelto il flag come capofila dei sette flag ci sarà un motivo, non le chiedo di commentarlo. No, 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 tu me. Non le chiedo di commentarlo. No, 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 io sono contento per il territorio più che altro. Però, insomma, vuol dire che si è lavorato discretamente. Sindaco, cosa possiamo aggiungere a questo tipo di considerazione sulla valorizzazione? Io pensavo, poco fa, con l'intervento del mio collega di Castelvetrano, pensavo, immaginiamo cosa accadrebbe se avessimo le terme, no? Certo. A proposito delle ricchezze, della varietà, dell'offerta del territorio. Se noi avessimo le terme a sciacca, tutto il territorio, tutto ne avrebbe un… Sicuramente. E quindi proprio, pensavo proprio questo, quando si discuteva della ricchezza, delle possibilità, delle tantissime possibilità che offre il nostro territorio costiero, dell'entroterra, stavo proprio immaginando cosa potrebbe portare quello che noi continuiamo a spiegare. Quindi la valorizzazione turistica attraverso proprio l'enogastronomia in particolare, anche il recupero delle tradizioni folcloristiche, poi questa cosa delle arti è molto simpatica, molto carina come prospettiva. Insomma, il territorio ha tante opportunità per crescere, ma la gente è consapevole di tutte queste opportunità, secondo lei, oppure è distratta dai tanti problemi di tutti i giorni? No, io credo che… Il tentativo, ovviamente, attraverso anche la promozione del mezzo televisivo, è chiaro che tende a rendere consapevole la collettività, ma qual è la sua opinione? No, io penso che su questo cominci ad acquistare consapevolezza. Credo che anche su sciacca questo sia evidente, che ci sia una maggiore consapevolezza, ma proprio nella promozione del proprio territorio. Questo penso che comincia ad esserci, se pensiamo a tutto quello che è sorto a proposito delle strutture di accoglienza, dei B&B e questo volersi mettere in gioco e proporre delle realtà di accoglienza importanti. Se pensiamo a tutto quello che si è mosso con la nostra ceramica intorno al corallo, intorno a quelle tradizioni particolari, penso io all'uncinetto, che abbiamo la tradizione della cartapesta, c'è quello che comunque sta facendo il museo diffuso dei Cinque Sensi, tutto questo io penso che cominci a sentirsi. In effetti il segnale, quando nasce sciacca, quando arriva sciacca Roccoforte e poi aeroviaggi si modernizza, diciamo così, la nascita di tanti posti letto in centro abitato è indicativo del fatto di una città, di un territorio che cominciava a farsi conoscere di più e quindi cercava di attrarre quel turismo che magari non va in quei luoghi e comunque dice ma sciacca comunque mi interessa. E' soltanto un esempio che credo possa essere coinvolto, anche perché molti dei clienti di Roccoforte so che ogni giorno fanno i transfert per andare a visitare Selinuna, quindi immaginiamoci come sia tutto un discorso di carattere territoriale. E soprattutto anche in questo periodo così critico sciacca ha puntato sul rilancio della propria identità, perché molti proprio hanno scommesso in questo periodo che onestamente non è stato dei migliori, eppure sono sorti i movi B&B, eppure ci sono state molte iniziative, si sta lavorando, si sta capendo che o ci si dà da fare o altrimenti si rimane indietro. Questa consapevolezza credo che la si stia acquisendo. A me sorprendono quelli che si sorprendono che sciacca sia bella, se la vedono al TG2, se la vedono sul Rai 3, scoprono che sciacca è bella oppure nel film di Ficarra e Piccola, come se non sapessimo che sciacca è bella. Magari abbiamo dei problemi, credo che tutti hanno dei problemi. Ero curioso poco fa, ingegnere Borsellino, di conoscere la sua opinione, quando lei ha parlato di acquacultura come simbolo, credo, l'ettiturismo, l'acquacultura, come simbolo della necessità, forse, di riconvertire un po' le attività. Per esempio, quanto ci riguarda pescherecce, sappiamo che l'Unione Europea ha assunto delle direttive, ha dato delle direttive molto stringenti rispetto ad un settore che era già in crisi, adesso ci sono un sacco di zone dove non si può andare più a pescare, allora la prospettiva potrebbe essere quella di riconvertire. Ma non c'è ancora, non viene ricevuta molto. L'acquacultura è un problema appunto europeo, nel senso che l'Unione Europea vuole limitare il pescato nel Mediterraneo, e quindi diciamo... Incentiva questo tipo di... Però secondo me questo penalizza i nostri operatori, quindi da questo punto di vista, secondo me per la Sicilia è penalizzante l'acquacultura, dovrebbero investire più per la riqualificazione dei nostri pescatori, più che sull'acquacultura, perché a parte le difficoltà che ci sono nell'attivare questo tipo di attività, però diciamo vanno a penalizzare un settore che da noi è molto fiorente anche in termini numerici di persone occupate. Quindi lei non si sorprende del fatto che non c'è un investimento verso questo settore? No, assolutamente, anzi i nostri rappresentanti dovrebbero cercare di limitare questa diversificazione da noi, più che altro diciamo, però se volessero aiutare i nostri pescatori, perché l'acquacultura per noi, per il nostro settore è sicuramente penalizzata. Secondo lei perché? Per un problema di tradizione, per un fatto di tradizione, più che per un problema? No, no, non per un problema di tradizione, per un problema che noi diciamo, il nostro settore è il pescato a mare, non è, diciamo, pescato in termini di coltivazione. Cosa pensa lei, Sindaco Valenti? Sì, assolutamente, la nostra tradizione è tutt'altro, l'allevamento, non credo che ci appartenga come tradizione, non credo che sia neanche una cosa su cui puntare, perché mai il nostro pesce si caratterizza per quello che è, la nostra frutta peschereccia è tra le più importanti, per quello che è, sarebbe proprio un cambiamento totale, che non penso che, anzi, andrebbe a sfavore rispetto all'economia anche. All'economia sicuramente. Dobbiamo dare un supporto, invece, al settore, perché il settore subisce una politica normativa e legislativa che è assolutamente inadeguata rispetto alle nostre realtà. Loro immaginano un mondo completamente diverso, che non ha niente a che fare con la nostra tradizione di pesca, che va invece rispettata e quindi, secondo me, se noi dobbiamo puntare, dobbiamo puntare ad avere un riconoscimento, un forte riconoscimento della nostra peculiarità, un riconoscimento che vada su una modifica significativa del sistema normativo che l'Unione Europea sta imponendo e che proprio sta distruggendo o quantomeno mette in serio pericola la sopravvivenza del settore. Quello, sì, convertire e andare a svilire, a cambiare la nostra tradizione, non mi vede sinceramente d'accordo. E cosa pensa il sindaco Ilfano di questo problema? Penso, diciamo, che io ho avuto modo da bancario di seguire alcune attività di acquacultura. Credo che ormai il consumatore capisce bene la differenza e ha cominciato ad apprezzare quello che è il pesce azzurro, che normalmente veniva considerato un po' il pesce di serie B, invece è qualcosa da valorizzare. Sono d'accordo sia con l'ingeghiere che con la collega, perché bisogna, secondo me, dare supporto a questa tradizione che è la piccola pesca, non è i grandi battitori. Parliamo di aspetti che fanno parte della nostra storia, della nostra cultura. Vanno supportate, valorizzate, perché anche queste non faranno grande eco nell'ambito dell'economia, ma sono anche loro attrattori di quel turismo che noi andiamo ricercando. E fanno parte di quegli aspetti identitari della nostra storia. Dico sciacca e la conservazione del pesce, dico le terme di cui si parlava, che sono un'altra caratterizzazione, non mancano solo a sciacca, mancano ad un intero territorio, mancano ormai da tantissimi anni. Cioè noi sono di quelle ricchezze che non appartengono alla sola comunità, ma a una zona molto più aspa, che sarebbe un modo per dire qui trovi il paradiso nel giro di pochi chilometri. Che questa è la verità nel nostro territorio. Se poi le piedi collegamento migliorassero tra Castelvetrano e Porto Empedro, che saremmo proprio, toccheremmo l'apice. Volei cominciare con una riflessione che chiedo a tutti, conclusiva, cosa ci aspetta per il futuro, rispetto alle iniziative del flag, al principio di questi comuni che condividono questo progetto e vanno di pari passo. Ecco, comincio proprio da lei, sindaco. Io spero di noi che noi possiamo servire da esempio agli altri comuni. Intanto per il lavoro già fatto e per quello che in prospettiva riusciremo a creare. Soprattutto se questa autorità intermedia, il cui il protocollo ormai è condiviso da tutti i sindaci, ci può dare in termini concreti la partecipazione a bandi del PNRR in maniera forte, convinta, per iniziative che servono al nostro territorio. Ecco, se noi riusciamo in questo, abbiamo fatto bene il nostro lavoro di amministratore, e bene il nostro lavoro di aggreganti all'interno di un flag che, ripeto, non è un caso che diventa capofila, perché è un flag che sta lavorando bene. Allora, Antonio Borsellino, una sola considerazione conclusiva su cosa ci aspetta? A parte gli auspici, però lei può andare anche oltre gli auspici perché evidentemente sa... Io voglio essere ottimista nel senso che dalla mia esperienza con i sindaci del territorio sono sempre stati in sinergia, quindi a prescindere dall'appartenenza politica hanno sempre cercato di fare crescere il territorio, e questo è importante, perché se hanno questa idea vuol dire che fanno politica realmente per passione e non per interesse. Quindi io da questo punto di vista sono ottimista, abbiamo avviato un percorso, e questo percorso secondo me può raggiungere risultati ottimi per il territorio, e mi auguro che questo percorso i sindaci ci credano e continuano a crederci, in maniera tale che questa ipotesi di lavoro venga portata a concretezza, perché il nostro territorio purtroppo subisce penalizzazioni ataviche che non siamo riusciti a superare, ma io nonostante ho più di vent'anni che faccio questo mestiere, cerco di fare crescere il territorio e credo che le potenzialità siano ancora a borgine rispetto alle prospettive che effettivamente ci possono essere. E se noi ci crediamo faremo in modo che i nostri figli rimarranno qua, altrimenti ci parleremo al circoletto tra di noi e dei nostri figli che sono all'estero. Facciamo nostri gli auspici di Ingegnere Borserino. Sindaco Valenti. Eh ma sì, ma funzionerà senz'altro. Io devo dire che ci crediamo tutti convintamente su questa opportunità. Riconosciamo nel flag una grande potenzialità, potenzialità e soprattutto quella competenza che ci possa permettere di essere veramente competitivi nella logica dei progetti del PNRR. Siamo consapevoli che ciascuno nel proprio comune non può. Quindi se vogliamo veramente puntare in alto dobbiamo metterci insieme e soprattutto affidarci a dei soggetti, a delle strutture che possano fare un ottimo lavoro. Il flag ha dato dimostrazione finora sotto tutti i punti di vista di capacità di aggregazione, di organizzazione, di competenza e perciò non si può non essere ottimisti. Altrimenti noi abbiamo detto, quando ne abbiamo parlato, abbiamo detto facciamo subito, dobbiamo andare molto in fretta perché i tempi sono stringenti sotto tutti i punti di vista. stiamo provando quindi a fare tutto in fretta perché ci crediamo, perciò non si può non essere ottimisti. A proposito di fare in fretta, la sindaca Valenti diceva poco fa che c'è una persona che è stata inviata dal ministero per occuparsi dei progetti del PNRR. Il nostro comune ha già preso servizio. Questo è il vetrano, avete... No, da noi non ancora perché considerato che all'appello hanno risposto la metà rispetto diciamo al numero dei tecnici che venivano ricercati ed evidentemente fanno delle scelte e Castelvetano non è stata tra queste. Ma anche una persona cosa può fare, mi domando, lo dico con rispetto naturalmente. Come dobbiamo fare in fretta? Non mi pare che sia la strada... Perché il PNRR, il presupposto è proprio quello che si debba correre altrimenti questi finanziamenti rischiano di non arrivare. Su questo una battuta la vuole dire l'ingegnere? Sì, no, no, vabbè, io come battuta dico che a prescindere diciamo alle risorse che ci assegnerà il ministero dobbiamo essere noi che in qualche maniera trovare soluzioni per poter andare avanti perché se aspettiamo che i problemi ci risolvano gli altri purtroppo resteremo sempre fermi. Secondo me questa è la spiegazione più corretta. Sicuramente come? Voglio essere diciamo franco. Certo, ringrazio l'ingegnere Borsellino, il sindaco Alfano di Castelvetrano, la sindaca di Sciacca Francesca Valente, appuntamento con Vespera alla prossima settimana.